In preda ad un amore infinito, nonostante non avessi un fisico da adone, ho condiviso il piacere di uno spazio tutto nostro con voi, mie grazie, e quell'amore traboccante di passione mi ha portato a vivervi accanto, tutti nella stessa casa. Per voi ho speso amore a profusione e fiumi di parole nelle poesie più intriganti dei primi del Novecento, ma ho sempre nascosto il mio lato debole, quello di svegliarmi col pensiero di una di voi che per me è stata un'abitudine ogni giorno, e come trasportato da una forza misteriosa, ogni mattina levandomi dal mio letto, con un piacere incommensurabile mi filavo sotto le lenzuola di seta accanto a lei, e come la temerezza di vivere un dolce sogno, sfioravo il suo corpo con baci lievi, tanto da farla svegliare, per poi accarezzarla con la leggerezza di una piuma, conquistando con le mie labbra ogni centimetro della sua pelle, per staziarmi del miele della sua bocca, e riempire di attenzioni le sue labbra apide di piccoli baci come infiniti petali di rosa, per poi, nell'incontro degli occhi, vivere il suo particolare braccio, in quella gambarmi unico, tanto da sentire fra i miti di sospiri vattati, e dopo carezze e profusione, ancora ebri di passione, e adormentarci in un solo abbraccio. Le tre camere, Maria e Leonore Barbara, testa e voce di Mauro Mazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.